La polizia ambientale chiude il parco Pozzi, sigilandone tutti gli ingressi, cominciando da quello di via Lenni Tristano, passando poi all'ingresso che dà accesso al parcheggio pubblico, dal quale poi è possibile entrare appunto nel parco Pozzi, per finire all'ingresso principale. La ragione la chiediamo all'autore del sequestro. La polizia ambientale mette sotto sequestro il parco pubblico Salvino Pozzi. Perché? Perché le condizioni di manutenzione sono disastrose, in quanto abbiamo rilevato delle condizioni igieniche e quant'altro all'interno del parco, pericolosissime per l'unità pubblica e per la sicurezza degli avventori di questo parco, compresi i bambini e le persone che vengono a fare attività sportive o ricreative. Il dispositivo di sequestro verrà emesso dalla procura con la convalida. Adesso noi procediamo per il sequestro e la chiusura, per l'imminente pericolo di vita per la popolazione e i cittadini che vengono in questo parco. E questa chiusura per quanto tempo? La chiusura poi sarà l'autorità giudiziaria a stabilire se il provvedimento di sequestro effettuato da noi con la notifica sarà valido e disporrà poi tutte le autorizzazioni in merito per poter procedere a ripristinare lo stato dei luoghi. Quindi la procura potrebbe decidere anche che il sequestro non è valido? La procura è un'autorità giudiziaria, quindi noi presenteremo l'esposto con il provvedimento di sequestro, la quale è già stato avvertito il magistrato di turno intanto, dove ha disposto il sequestro che seguirà poi la notifica. Quindi c'è stata un'autorizzazione del magistrato a fare effettuare questo sequestro? Sì, c'è stata un'autorizzazione perché la procura è stata avvertita dal magistrato di turno di questa gravissima situazione, la quale ha consigliato di provvedere alla chiusura del parco e quindi alla conseguente notifica di tutti i rilievi videofotografici del verbale di sequestro disposto da noi. Naturalmente noi siamo agenti di polizia giudiziaria, quindi riferiremo alla procura di tutte le mancanze e le inadempienze in relazione a questo parco e alla sua manutenzione. Non per fare polemiche, ma siccome negli ultimi giorni si è letto una dichiarazione del sindaco dalla quale si evince che queste azioni che sta facendo la polizia ambientale sono finalizzate a ottenere qualcosa dal comune che non avrebbe concesso, come possiamo chiarire questo aspetto nell'ottica di quella osservazione precedente, cioè che il sequestro poteva pur non essere convalidato. Non è di nostra competenza questa situazione riguardo alla convalida del sequestro in quanto noi come attività di polizia giudiziaria presentiamo tutte le fonti di prova, raccogliamo tutte le fonti di prova e le presentiamo alla magistratura, la quale sarà poi lei a decidere in base alla notifica delle nostre fonti di prova che provvederà poi al sequestro. In relazione invece alla polemica che si è venuta a creare con l'amministrazione comunale, noi abbiamo presentato storicamente un esposto che consiste in un protocollo d'intesa, sempre a titolo di volontariato, con il comune in merito alla collaborazione per rendere più vivibile questa città. Naturalmente il protocollo d'intesa riporta un rimborso spese che sono quelle delle spese volontarie, quindi le spese ordinarie, quali le spese di carburante per le pattuglie perché noi siamo guardie volontarie, quindi il comune dovrebbe quantomeno aiutarci nelle spese di ordinaria gestione, quindi non abbiamo chiesto danaro per poter fruirne noi nella qualità di agenti di polizia giudiziaria, ma abbiamo chiesto rimborso spese che ci consentano di poter lavorare, in quanto noi siamo comunque un'associazione onlus e quindi siamo un'associazione di volontariato che tende a portare un miglioramento a quelle che sono poi le condizioni di vivibilità sia del parco, quindi sia all'interno del parco sia all'esterno, quindi servizi di pattugliamento per quanto riguarda i rifiuti. Quindi la vostra non è un'azione di rivalsa nei confronti del comune così come si è almeno inteso leggendo certe cronache? Assolutamente nessuna azione di rivalsa in quanto questa non è stata una richiesta pecuniaria o in danaro per poterne fruire noi, noi siamo un'associazione di volontariato quindi i rimborsi irrisori, se così possiamo dire, delle spese di gestione che riguardano il pattugliamento della città di Aversa in materia di smaltimento illecito di rifiuti ambientali, maltrattamento animale, abusivismo edilizio e quant'altro nelle nostre competenze, risultava solo in questi famosi rimborsi spese irrisori che servono a noi per poter gestire questa attività. Quando alle dipendenze da quale ministero dipende la polizia ambientale? Allora noi siamo un'associazione con decreti ed autorizzazioni rilasciate dal ministero delle politiche agricole, rilasciate dalla regione Campania, rilasciate dal farmaco veterinario, quindi dal... Quindi è un'associazione che ha poteri effettivi di carattere giudiziario o è un'associazione amichevole? No, noi ai sensi dell'articolo 55 e 57 del codice di procedura penale siamo agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle nostre mansioni. Quindi agenti a tutti gli effetti? A tutti gli effetti. Anche se volontari.